acquaroli garantisce pesaro avrà un ospedale di alto livello al banco alimentare la prima benedizione del nuovo arcivescovo incidente via ponchielli frattura la gamba per uno scuterista spiagge sdraio e ombrelloni costeranno il 5 per cento in più cittadella dello sport lavoro in arrivo a villa fastigi giovedì 5 maggio buona serata ben ritrovati al nostro rossini news il telegiornale ufficiale di rossini tv in questa prima edizione in replica poi alle 20 e 40 questa sera apriamo l'edizione parlando del consiglio comunale dedicato alla sanità consiglio comunale che si è tenuto ieri in presenza del presidente della regione marche francesco acquaroli impegno ad un ospedale d'eccellenza che riduca la mobilità passiva è stato il concetto cardine emerso da oltre tre ore di confronto tanto atteso quanto partecipato il consiglio comunale monotematico sulla sanità alla presenza peso del presidente della regione marche francesco acquaroli ha ribadito il lungo elenco di criticità ospedaliere lamentato dagli ordini del giorno dei consiglieri comunali e sottolineato dal sindaco matteo ricci a cominciare dal tema del nuovo ospedale di pesero il presidente acquaroli si è presentato all'appuntamento in solitaria stigmatizzando la qualità delle intenzioni su pesero e in particolare su muraglia a cominciare da un ospedale che sarà tutt'altro che un ospedaletto bensì avrà il più alto degli stanziamenti della politica sanitaria regionale investiamo 150 milioni che è la cifra più importante la somma più importante che la regione marca abbia mai destinato ad un'opera pubblica per garantire una grande struttura su cui basare la sanità del futuro della città di pesero ma anche della provincia di pesero biede una risposta al sindaco ricci che dopo aver rivendicato la scelta di muraglia quale frutto di una proficua mediazione d'accordo con lo stesso acquaroli ha invocato dal nuovo ospedale un salto di qualità richiesto dalla seconda città delle marche il contenuto partendo dal presupposto che noi non siamo soddisfatti per niente di come va l'ospedale l'ospedale di pesero è un ospedale discreto io non voglio parlare male del nostro ospedale perché non lo meritano i medici non lo meritano gli operatori non sarebbe sbagliato ma è un ospedale discreto non è l'eccellenza che noi vorremmo e purtroppo non è che lo dico io opinione più o meno da prendere in considerazione lo dicono i dati perché la mobilità passiva negli ultimi anni ha aumentato noi non siamo diventati più attrattivi siamo meno attrattivi e tanti cittadini del nostro territorio continuano a scegliere Emilia Romagna per curare anche malattie o per fare interventi non così eccezionali pressing sul contenuto ma anche sul cronoprogramma ancora non chiarito è richiesto nuovamente dallo stesso sindaco il cronoprogramma della realizzazione del nuovo ospedale è un elemento fondamentale anche per la gestione uno dei problemi che abbiamo avuto negli ultimi dieci anni è che avevamo l'obiettivo di fare un nuovo ospedale e nel frattempo devi gestire un'azienda su preplessi quindi la tempistica nella quale si realizzerà il nuovo ospedale anche visti vari spostamenti propedeutici che devono essere fatti è fondamentale anche per capire come gestire questa fase di transizione mobilità passiva sulla quale acquaroli ha allargato il tiro di un problema regionale è un problema di tutte le marche qui è un problema accentuato stiamo cercando di capire dove la mobilità passiva nasce se nasce nella ricerca delle eccellenze o se nasce nella ricerca di quei servizi di quelle risposte di immediatezza di territorio e questa risposta è importante per noi perché un conto è cercare di risolvere il problema in una fattispecie cioè quella del fornire servizi di eccellenza interventi di altissimo prestigio e pregio oppure se cercare invece anche di dare quelle risposte alla quotidianità io temo che il problema sia proprio in questa seconda parte cioè dove il territorio che è venuto a mancare in questi anni la scarsità e la carenza delle risposte che il territorio riesce a dare portino i nostri cittadini con cittadini a rivolgersi in strutture fuori dalla nostra regione. Infine il consiglio comunale ha esternato la forte preoccupazione per le carenze di personale a Marche Nord. Nell'azienda Marche Nord il personale è aumentato in questi ultimi due anni ma il problema è che il personale è aumentato meno di quanto sia aumentata la domanda dei servizi. Presenti ieri a questo consiglio comunale speciale dedicato appunto alla sanità c'erano anche i consiglieri regionali pesaresi come Nicola Baiocchi e Andrea Biancani che hanno partecipato appunto a questo incontro. Ascoltiamo quindi le loro reazioni in questa doppia intervista. Nicola Baiocchi siamo all'indomani del consiglio comunale monotematico sulla sanità a Pesaro sul futuro anche del nuovo ospedale. Alla presenza del presidente della regione Marche Acquaroli che cosa ha significato a bocce ferme questo step? Ha un grosso significato, è sicuramente un segno di attenzione da parte del presidente della regione che a differenza di quello che sostengono i tanti è assolutamente vicino alla città di Pesaro tanto che come ha ripetuto lui ma anche numerosi interventi la regione Marche ha effettuato il primo intervento più importante e sostanzioso di questa legislatura nella città di Pesaro con il nuovo ospedale a fronte di un investimento di 150 milioni di euro. Quindi è un'operazione importantissima, ha cercato di evidenziare la grandezza di questo progetto a dispetto di tantissime promesse che sono avvenute negli anni che ci hanno preceduto. Ora si attendono un po' quei passi che portino a una concretezza più pressante dai tempi ai contenuti più specifici? Capisco anche l'attenzione da parte del sindaco e della maggioranza di avere tempi veloci, certi e di un cronoprogramma. Ci sarà la massima attenzione da parte anche dei consiglieri di maggioranza rispetto a questa richiesta perché è nell'interesse di tutti di avere quanto prima un ospedale nuovo, efficiente che deve cercare di andare a colmare tutto quello che non c'è stato prima in riferimento all'unità passiva, cercare di attirare delle eccellenze per il nostro territorio e di riavere un ospedale all'altezza della nostra città. In questi ultimi giorni ha fatto discutere anche il tema della discontinuità sulla gestione di Marche Nord. È un tema molto delicato, io penso che i consiglieri sia di maggioranza che di minoranza hanno chiesto una discontinuità, adesso la Regione dovrà fare le sue valutazioni sul futuro di Marche Nord, ma non solo di Marche Nord perché la discontinuità non è legata solamente al Marche Nord ma anche tutto il territorio che riveste la nostra provincia di Pese Urbino e anche altre aree vaste della Regione Marche, quindi non posso che allinearmi a questa proposta e adesso vediamo un attimino di giungere a una soluzione quanto prima per cercare veramente di tornare ai fasti che questo ospedale veramente aveva nel passato. Andrea Biancani, ieri ha partecipato al Consiglio Comunale monotematico sulla sanità, molto atteso questo appuntamento con il Governatore Francesco Acquaroli, le chiedo se dal suo punto di vista ha soddisfatto quelli che erano i tanti interrogativi o è stato un passaggio più che altro interlocutore? Beh, dal mio punto di vista non c'è stato niente di nuovo perché il fatto che l'ospedale andava fatto e che si faceva peggio e che la sede individuata era quella di Muraglia era una notizia che già sapevamo. Mi sarei aspettato dei tempi, cioè capire quelli che saranno i tempi sia per fare il progetto ma soprattutto i tempi per iniziare i lavori. Ormai è passato un anno e mezzo, si è solamente distrutto quello che era il progetto che avevamo praticamente pronto per iniziare i lavori e un anno e mezzo dove ancora ad oggi non si è capito chi farà il progetto e quali saranno i tempi sia del progetto sia di inizio dei lavori. Dall'altra parte il Presidente ha parlato di razionalizzazione sia di Pesaro che di Fano perché ha detto che ci saranno due strutture, una di primo livello a Pesaro, una di primo livello a Fano. La volontà, quella che è stata espressa in maniera chiara, è che non ci deve essere una duplicazione di molti reparti e appunto ieri non è stato definito, non è stato detto quelli che saranno i reparti che saranno mantriunti a Pesaro e quelli che saranno mantriunti a Fano. Ricordo solo che a Pesaro ormai da oltre un anno manca il reparto di pediatria, è stato promesso che verrà ripristinato entro il mese di ottobre ma comunque questa cosa si ripercuoterà anche per il futuro, cioè le pediatrie rimarranno due o alla fine sarà solamente una, sarà a Pesaro o sarà a Fano. La psichiatria, da quello che sembra, sembra che sarà la psichiatria di Pesaro che chiudeva solamente a Fano, quindi c'è un tema molto molto caldo di capire quelli che saranno i reparti che verranno mantenuti a Pesaro perché dentro il nuovo ospedale è vero fare una nuova struttura ma dove vogliamo capire bene quelli che saranno i servizi che verranno garantiti ai nostri cittadini. E ora ci spostiamo a parlare del Banco Alimentare di Pesaro che oggi ha ricevuto un'importante donazione che consentirà un salto di qualità nella lotta agli sprechi alimentari e nel supporto alle famiglie in difficoltà della comunità. Giornata davvero importante quella di questo giovedì 5 maggio per la fondazione Banco Alimentare Onlus. Oggi qui nel magazzino peserese del Banco Alimentare in via fermo è stata effettuata la donazione di un mezzo refrigerato, un mezzo di trasporto che consente un importante salto di qualità nel recupero delle eccedenze alimentari, nel loro trasporto anche nelle aree più lontane dai centri urbani principali. Una grande donazione effettuata grazie alla generosità della fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Fondazione Carifano, Lions Club International Distretto 108 e Anco Sconfarticianato e Banca d'Italia. Enti e fondazioni presenti oggi qui al Banco Alimentare assieme anche a Monsignor Sandro Salvucci, nuovo arcivescovo di Pesaro che a pochi giorni dal suo insediamento in cattedrale a Pesaro ha oggi effettuato la sua prima benedizione proprio in questo contesto. Il mezzo donato è solo un'occasione proprio per ritrovarsi, per ringraziare i donatori che ci permettono di avere proprio uno strumento importantissimo per raggiungere tutte le comunità e le associazioni delle aree lontane di Marche Nord e li voglio ricordare i donatori perché sono stati veramente determinanti e sono la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, il distretto 108A dei Lions, quindi tutta la famiglia dei Lions ci ha accompagnato in questo e anche Anco Sconfarticianato che ha da sempre un'attenzione alla persona oltre che alle imprese e Banca d'Italia. Questa donazione, quindi il mezzo che noi vediamo oggi con il logo e con il logo del Banco Alimentare che girerà appunto in tutto il nostro territorio, ci consentirà di essere sempre più efficaci nella redistribuzione del cibo che recuperiamo o dalle grandi aziende o dalla distribuzione organizzata oppure anche diciamo in tutte le situazioni dove il cibo verrebbe buttato via, anche se è ancora buono. Quindi la nostra mission è quella di recuperare e redistribuire gratuitamente il cibo ogni giorno e questo lo facciamo da più di 30 anni e lo facciamo con i nostri volontari sul territorio, nel magazzino di Pesaro dove siamo oggi a festeggiare questa donazione, nel magazzino di San Benedetto e nel Lab di Fabriano. Quindi siamo presenti in tutta la regione Marche, i nostri enti caritatevoli sono 262 e attraverso di loro noi rispondiamo al bisogno di oltre 43 mila persone che è un dato fermo alla fine dell'anno. Quindi purtroppo le nuove povertà e i bisogni sono in aumento, sapete che anche i profughi dell'Ucraina sono diciamo nostri assistiti attraverso gli enti che assistiamo. Quindi noi siamo sempre pronti ad accogliere e a rispondere anche ai nuovi bisogni che si creano. E come avete potuto vedere dal servizio presente oggi in questa iniziativa del Banco Alimentare c'era anche Sandro Salvucci, l'arcivescovo, il nuovo arcivescovo che ha dato la sua benedizione al Banco Alimentare. Vescovo che ha commentato ai nostri microfoni la sua prima apparizione pubblica a pochi giorni dall'insediamento in cattedrale. Monsignor Sandro Salvucci a pochi giorni dal suo insediamento da arcivescovo di Pesaro, la prima apparizione pubblica fuori dal contesto ecclesiastico diciamo, in un luogo che però è una perfetta sintesi di generosità e carità cristiana. Assolutamente, sono davvero contento di questa coincidenza, cioè essere qui al Banco Alimentare aver incontrato tante persone volontari che veramente fanno un'azione straordinaria di attenzione verso le persone che sono nella difficoltà e sappiamo quanto bisogno c'è di farsi vicino e sostenere chi è nel bisogno. Credo che io ho colto questo essere qui oggi come un segno anche per me, cioè di necessità di essere attenti alla vita reale delle persone e quindi essere accanto a chi è impegnato nel sostenere chi è più fragile, quindi incoraggiare, benedire, ma anche, come dire, fare la mia parte perché comunque è una città, vive grazie proprio alla generosità, all'attenzione al bene comune di ognuno e ho visto e ho salutato con molto piacere oltre ai rappresentanti delle istituzioni, ma a questo gruppo così folto di volontari, pensionati, ma anche persone così che prestano il loro tempo, il loro servizio con grande generosità, umiltà e questo bene che sembra nascosto, sembra non fare rumore, in realtà è preziosissimo e ci dice che la forza del bene nascosta potrà vincere e vincerà, sono sicuro, sul male che invece sembra essere prevalere, insomma, ecco nella cronaca, nella situazione della guerra e così via. Quindi sono felice di essere qui oggi nel cuore di un'esperienza bella, positiva, sicuramente che dà speranza alla città di Pesaro, ma anche, direi, a tutta la provincia, a tutte le marche nord, insomma, no? Perché l'estensione dell'attività del Banco Alimentare mi pare di aver capito proprio su tutte le marche. Ed ora andiamo allo spazio dedicato alle vostre segnalazioni, le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono ad un incidente stradale avvenuto oggi intorno alle 12.15 in via Ponchielli a Pesaro. Secondo la ricostruzione della polizia locale, un'auto, una Toyota Hybrid, stava tentando la svolta presso il distributore di benzina Esso, ma nella manovra ha travolto uno scooter guidato da un ragazzo, che procedeva da Largo Ascoli Piceno in direzione Via Giolitti. Lo scooterista, soccorso dall'ambulanza, è stato trasportato al pronto soccorso dove gli sono state riscontrate una frattura e alcune lesioni a ginocchio e tibia. Ringraziamo la segnalazione di Max, un nostro caro telespettatore, che ci ha inviato le immagini che avete appunto visto in questo momento. E vi ricordiamo sempre il nostro numero delle segnalazioni, 370-366-7210. Sta per partire la nuova stagione balneare e si preannuncia un'estate con alcuni rincari figli di questi due anni di difficoltà a causa del Covid. È quanto emerge dall'indagine sugli stabilimenti balneari effettuata dall'osservatorio di Feder Consumatori Pesaro Urbino, che ha stimato come sdraio ombrelloni e abbonamenti giornalieri aumenteranno mediamente del 4-5%. Intanto viene confermata la qualità delle acque del nostro litorale con i comuni costieri Gabicemare, Pesaro, Fano e Mondolfo, che martedì 10 maggio riceveranno la bandiera blu anche per l'estate 2022. Ed ora ci occupiamo di opere pubbliche a Pesaro dopo tanti rinvii e problematiche burocratiche. Sembra davvero questione di poche settimane il via al cantiere a Villa Fastigi per la Cittadella dello Sport. Vediamo. Dopo un paio di anni di proclami, attese e lungaggini burocratiche, il tempo in cui sarà possibile vedere camion e ruspe al lavoro sembra ormai diventato questione di settimane. L'attuale centro sportivo di Villa Fastigi, casa della Vispesero, è pronto ormai ad ospitare quei cantieri che lo renderanno Cittadella dello Sport con la Vispesero e l'associazione temporanea di imprese Mati Group che fa capo allo stesso presidente bianco-rosso Mauro Bosco, principale attore della concessione in regime di project financing che vede il comune di Pesaro compartecipare all'azione con 1.200.000 euro. Tre settimane fa è arrivata l'approvazione del Consiglio Comunale e negli ultimi giorni lo stesso comune ha affidato gli incarichi per definire il progetto operativo nominando l'architetto Pietro Cantani responsabile unico del procedimento di adeguamento del centro sportivo. Insomma, si sta per partire con un progetto che per la Vispesero potrebbe essere un primo passo su un cammino davvero lungimirante. Un cammino che il presidente Bosco aveva ipotizzato fin dai primi mesi del suo insediamento. Il progetto consisterà infatti in due nuovi campi di calcio a 11, uno di calcio a 5, campi di paddle, un'area ristoro, nuovi spogliatoi, una palestra, tribune e uffici per il personale della Vispesero. Il tutto in ottica sostenibile e efficientamento energetico con impianti fotovoltaici. Un complesso funzionale e all'avanguardia dove la Vispesero potrà continuare a crescere investendo su giovani e diventare un punto di riferimento sociale e sportivo per la città e non solo. Contestualmente l'avvio dei cantieri potrebbe rivoluzionare anche la viabilità dell'area di Villa Fastigi con i residenti preoccupati dalle possibilità di aumento di traffico. A tal proposito c'è allo studio da parte del Comune la possibilità di un nuovo percorso ciclopedonale ma probabilmente sarà un passaggio subordinato all'avvio dei cantieri che, salvo intoppi, caratterizzeranno l'estate di questa area. E restando in tema correlato alla Vispesero Flavio Lazzari, ex calciatore bianco-rosso attualmente in forza all'atletico Gallo Colbordo lo ha presentato oggi in municipio la sua Flavio Lazzari Football Academy un progetto pensato per i giovani che vogliono migliorarsi lavorando in maniera più specifica sull'utilizzo del pallone. Un'academy destinata ai ragazzi fra i 6 e 14 anni che potrà essere frequentata parallelamente all'iscrizione a società sportive e che sarà già attiva da questa estate con un summer camp dal 13 giugno all'8 luglio. E torna uno dei più suggestivi appuntamenti musicali del cartellone primaverile di Gabicce e Mare con la magia di musica d'atmosfera che fa da sfondo agli spettacolari tramonti di Gabicce e Monte. E' questo il connubio della rassegna Concerti al Tramonto che si svolgerà sulla terrazza panoramica in piazza Valbruna tutte le domeniche dall'8 maggio al 5 giugno a partire dalle ore 19. Si comincia questa domenica con l'esibizione di Elena Sanchi. Domenica 8 maggio è la festa della mamma. Il comune di Pesaro decide di dedicare questa giornata ad una straordinaria mamma pesarese come Sara Levinathan eroina del rinascimento nonché madre di 12 figli. A spasso con Sara sarà la passeggiata gratuita tra le vie del centro e di quello che fu il ghetto ebraico da Piazzale degli Innocenti con ritrovo alle ore 10 fino alla sinagoga aperta per l'occasione. A guidare la scoperta della vita straordinaria di Sara Levinathan saranno Elena Bacchielli, Raffaella Vori e Patrizia Romagnoli delle associazioni Fidapa Pesaro e le voci dei libri. E concludiamo il nostro telegiornale con una notizia che riguarda l'Università di Urbino che fa un passo avanti di ben 29 posizioni nella classifica nazionale sulla valutazione della qualità della ricerca riferito al periodo 2015-2019. Salto in avanti che è stato certificato dall'ultimo rapporto dell'Agenzia Nazionale per la valutazione del sistema universitario e che rappresenta una delle migliori progressioni italiane in assoluto. Urbino torna così al centro della classifica rispetto all'unico indicatore ministeriale in cui l'Ateneo ha storicamente registrato valori non esaltanti. Ha espresso soddisfazione in tal senso il rettore Giorgio Calcagnini per un risultato che dimostra il rialzo di qualità della produzione scientifica dell'Ateneo. E allora davvero complimenti all'Università di Urbino università con la quale anche Rossini TV collabora ma adesso andiamo a parlare di sport perché questa sera, attenzione, è l'ultima puntata di Insieme a Canestro 25 puntate che hanno permesso di seguire a tutti voi questo importante campionato della Vittoria Libertas di quest'anno. Ospite di questa ultima puntata Luca Banchi, il coach della Carpegna Prosciutto Basket e Mauro Procaccini che è allenatore e commentatore TV alle 21.20 saremo in diretta quindi potrete commentare scrivere i vostri pensieri al numero di Whatsapp oppure commentando sotto la diretta Facebook. E poi vi ricordo oggi è andata in onda un'altra nuova puntata del Pesce Azzurro Quiz Show se ve la siete persi quella di oggi alle 19 potete vederla questa sera alle 22.30 E poi domani, così come tutti i venerdì e fino alla fine del mese di maggio ritorna il Vallefoglie Pian del Bruscolo Magazine il settimanale di informazione dedicato a questo territorio quindi l'appuntamento è per domani alle 20 replica alle 23.15 Vi ricordiamo anche che domani in diretta TV alle 21.20 ci sarà il sindaco di Pesaro Matteo Ricci per le vostre domande mandate un messaggio su Whatsapp al 370-366-7210 oppure potete telefonare in diretta quindi l'appuntamento per la diretta con il sindaco è domani alle 21.20 E vi ricordiamo anche che a partire dalla prossima settimana esattamente martedì 10 maggio parte la nuova stagione di Qua la Zampa Jack, Antonia Stuti e la nostra carissima Cagnolina che vedete qui nell'immagine saranno i conduttori di questo nuovo format televisivo dedicato ai nostri amici animali che troverete su Rossini TV tutti i mercoledì alle 21.20 Ho detto davvero tutto carissimi amici domani l'informazione vi attende alle 7.20 in diretta con la nostra rassegna stampa buona serata